Inter contro il Gzira, dove vederla, in tv e in streaming. Il training camp dei Nerazzurri a Malta prevede due amichevoli, Gzira e United Inter è la prima partita. Confischio d'inizio alle ore 18 allo stadio Tony Bezzina di Paola. Dirige l'incontro l'arbitro Matt Iude Gabriele. Assistenti Jürgen Spiteri e Michel Sherry con Emmanuel Gray come quarto uomo. Quarta classificata nella scorsa Premier League maltese, si tratta di una delle squadre più quotate sull'isola e attualmente naviga in terza posizione nel campionato nazionale a pari merito con il Virkir Kara. La squadra allenata da Deren Abdila non sta vivendo un momento positivo, con una sola vittoria nelle ultime cinque giornate. Ma è ancora parte integrante nel gruppo che insegue la capolista in fuga, gli Ameren Spartans. L'Ogzira United ha soltanto una Coppa di Malta nel Pan Mares, mentre non è mai arrivata oltre la terza posizione nella Premier League. Il punto forte dell'attuale rosa? I due attaccanti brasiliani Jefferson e Maxwell Samurai, a 22 gol complessivi in stagione. A Malta Simone Inzaghi ha portato tutti i giocatori della sua rosa tranne quelli coinvolti al Mondiale in Qatar e gli acciaccati Danilo D'Ambrosio. Matteo D'Armian e Mattia Zanotti. Per i primi due impegni di questa preparazione decembrina il gruppo è integrato anche da diversi uomini della primavera di Christian Kivu, la prima partita è contro un avversario morbido. Ma mercoledì ci sarà già il Salzburgo da affrontare. L'obiettivo è dichiarato, arrivare alla sfida contro il Napoli del 4 gennaio nelle migliori condizioni possibili. Gazira United Inter sarà trasmessa in esclusiva a pagamento sui Facebook Live, in diretta streaming. La partita non sarà visibile in chiaro né in televisione. Diretta testuale su www.gazzettaitaliano.